Passati due giorni dalla scadenza del termine per le proposte di acquisto, ancora nessuna notizia certa per le sorti del gruppo Ciarutti di Casale Monferrato e dei 240 lavoratori che aspettano notizie dalla curatela, che si sta occupando di questo delicato passaggio di proprietà. Le voci di corridoio in questi giorni avevano fatto trappelare due possibili offerte, una della Bobstit Italia di San Giorgio Monferrato e una del gruppo Rinascita, che prevede il rientro della famiglia Ciarutti affiancata da imprenditori italiani non meglio identificati. I curatori dei fallimenti hanno emesso una nota che ammette la presenza di offerte, non ne quantifica il numero e prende sostanzialmente tempo al fine di valutarne la portata e l'impatto. Ma la stessa nota aggiunge che la volontà è quella di chiudere, in tempi rapidi, la procedura di vendita competitiva accompagnata da apposita negoziazione con i sindacati nell'ambito dell'articolo 105 della legge fallimentare. Tornando alle offerte presentate, una conferma di interessamento potrebbe arrivare oggi alle 16.30, quando nella sede di San Giorgio Monferrato, la di Davide Garavaglia terrà una conferenza stampa per chiarire la posizione di Bobstit Italia. La conferenza stampa in programma è stata preceduta ieri dal confronto fra i dirigenti italiani del Colosso Svizzero con l'RSU di Bobst e che lascerebbe prefigurare cambiamenti nell'organico aziendale. Tutto questo movimento attorno alla trattativa porta ad ulteriori voci che sono seguite con attenzione da Maurizio Cantello, funzionario della FIOMCGL Alessandria e dai lavoratori in presidio ai cancelli della Ciarutti a Casale, che non sanno se si riuscirà ad ottenere la cassa Covid per i prossimi due mesi, in quanto in mattinata si è prefigurata l'intenzione di Bobst, in caso di acquisizione, di predisporre un piano sociale, un fondo diciamo, come forma di aiuto verso i lavoratori, che potrebbero non far parte del futuro organico. Per questo i sindacati si preparano ad un lunedì infuocato con l'invio immediato della richiesta della CIG proprio per l'inizio della prossima settimana, che si annuncia decisiva per le sorti dei lavoratori e del gruppo Ciarutti.